E' vera sta cosa che lei parla molte lingue? E molte volte sbaglio l'italiano perché dopo molte cose non lo so come si dice, molte frasi lo so in tedesco, lo so in spagnolo e non mi viene in italiano, però in abruzzese mi viene, per fortuna. Per esempio, why are you so good in English? E che vuol dire? E questo è inglese. What about the politics in this moment in Italy? E' una politica abbastanza movimentata. Questa è la sua conoscenza dell'inglese? Beh, un po'... Però c'è una lingua che sa meglio. Beh, in svizzera lingua è chiaro. Quindi il tedesco... Aber anche in tedesco. Auch in tedesco, sì. A questo abbiamo beccato. Wie lange avete in der Schweiz gelebt? Ich habe fast 41 Jahre, quasi 41 anni traduziamo. Bravo che metti i sottotitoli, se non capirà. Qualcosa altro sa lo spagnolo? Sì, perché tengo mi mujer che è spagnola, con mi suegra tengo che parlare spagnolo, perché se no... Come si chiamano i suoi nietos? Mi nieto si chiama uno Giuliano, che vive in Suiza, e uno si chiama Daniela, che vive in Saragoza, in Spagna. Sembra Maradona quando parla in napoletano, cioè più che lo spagnolo. Secondo me, però... Sì, sì, beh, è chiaro che c'è anche delle cose abruzzese, si mancherebbe. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì.